È il fenomeno del momento! Nessuno sa chi sia! Nessuno l'ha mai visto in faccia! Qualcuno dice che sia un detenuto del carcere minorile di Napoli. Lui è... Cardiotrop! Lui è il fenomeno del carcere minorile di Napoli. L'amore con la mia musica, te va, te ma, non te va mai! L'anima discendera, ma non so l'agrum e il odore! A chi mi dici scusami, è calda voglia troppo pe! A chi non mi arrega, è mal che non so parola! Quando ti fai scurreti e lasse, me svevo nel momento per me, da vinti a golla, e metta faccia d'un ucci, e chagno dronti e lacrima, che ha ne potuto chiarire, e non è sastrima. E volesse se vede, si stai con me, o si ovo bene ancora, chi lo palla, e pensa mamma mia, donna stretta, con dronca scuaggata, asettata, mieti e scala, gama spetta. Quando ti fai scurreti e lacrima, che ho vinti a scurreti e faccia, me stai con me, da vinti a incontri, un ucci sinist, stai con me, da vinti a scurreti e lacrima, che ho vinti a scurreti, e scurreti e lacrima, che ho vinti a scurreti.